Ciao a tutti e benvenuti su Electronic NCNC Lab. In questo video parleremo dell'utilizzo di un encoder rotativo con Arduino Uno. Un encoder rotativo è un dispositivo che viene utilizzato per misurare la rotazione di un oggetto, nel nostro caso la manopolina dell'encoder. In questo video spiegherò come è fatto un encoder rotativo, come funziona e come può essere utilizzato con Arduino. Inoltre fornirò un esempio pratico di utilizzo dell'encoder rotativo con Arduino, che potrà essere utile a chiunque stia cercando di imparare ad utilizzare questo dispositivo nei propri progetti. Spero che questo video vi sia di aiuto e che vi invito a guardare fino alla fine per scoprire tutto quello che c'è da sapere sull'utilizzo dell'encoder rotativo con Arduino. E allora iniziamo! L'encoder rotativo che sto per presentarvi si presenta esteticamente più o meno come un potenziometro. È un dispositivo quindi dotato di una manopola che può essere ruotata, ma in questo caso anche pigiata. Questo tipo di encoder è spesso dotato di uno switch integrato sull'albero della manopola stessa, che può essere utilizzato per selezionare e scegliere voci di un menu. Quando la manopola viene ruotata, l'encoder invia un segnale di output che viene elaborato da un circuito di controllo, il quale può utilizzare queste informazioni per determinare la posizione dell'oggetto in rotazione, nel nostro caso la manopola. Inoltre, quando si preme lo switch sull'albero della manopola, viene inviato un altro segnale di output che può essere utilizzato per confermare la selezione di una voce del menu. Gli encoder rotativi in formato manopola sono molto utili in moltissime applicazioni, come ad esempio nei sistemi di controllo di dispositivi elettronici e in molti altri ancora. Gli encoder rotativi, come il nostro con due segnali di output sfasati tra loro, sono noti come encoder rotativi a due fasi o encoder a quadratura. Questo tipo di encoder viene utilizzato per determinare non solo la posizione della manopola, ma anche la direzione di rotazione. I due segnali di output vengono inviati dall'encoder con un piccolo ritardo l'uno rispetto all'altro, il che permette al circuito di elaborazione di determinare la direzione di rotazione della manopola. La decodifica software degli encoder in quadratura può essere effettuata utilizzando un algoritmo che rileva il cambiamento di stato del canale A e del canale B, e in corrispondenza a quale dei due è in anticipo o in ritardo viene determinato il senso di rotazione. Se la velocità di rotazione è bassa, il rilevamento può essere effettuato con un polling sul pin di ingresso. Gli encoder con uscita ottica forniscono dei segnali ad andamento quadro con fronti di discesa e di salita puliti, mentre il nostro, che probabilmente con uscita meccanica, ha dei fronti di salita e discesa un po' più sporchi a causa dei rimbalzi dei contatti. Questo problema può essere risolto utilizzando integratenti rimbalzo, o nel nostro caso condensatori da 100nF, oppure un debounce attraverso il programma. Nel primo esempio che ho preparato verrà mostrato come funziona l'encoder rotativo facendo vedere i due segnali di output, il clock, detto CLK, e il DT dat transmission, durante la rotazione della manopola, nonché il segnale di switch, attivato quando si preme la manopola. CLK e DT sono segnali in quadratura, cioè sfasati di 90 gradi tra di loro, e vengono utilizzati per determinare il senso di rotazione. Nel secondo esempio verrà mostrata un'applicazione pratica di utilizzo dell'encoder rotativo per regolare l'intensità luminosa di un LED, utilizzando il segnale PWM di Arduino. Verrà mostrato inoltre come utilizzare il segnale in quadratura dell'encoder per contare gli impulsi e calcolare la posizione angolare della manopola. Queste informazioni saranno quindi utilizzate per generare un segnale PWM di intensità variabile, che verrà inviato al LED per regolare la sua luminosità. Nell'esempio verranno inoltre affrontate le problematiche connesse all'utilizzo degli encoder rotativi, come ad esempio la necessità di debounce per evitare i rimbalzi di corrente nei contatti meccanici. Bene, vediamo adesso lo schema del primo esempio. Abbiamo la scheda Arduino Uno, la breadboard, l'encoder rotativo di tipo elettrico in un ottico, un LED blu per mostrare il cambiamento di livello logico quando si pigia la manopola dell'encoder e due LED, uno verde e uno rosso, per mostrare rispettivamente quando cambia lo stato logico del bit di clock e quando cambia invece lo stato logico del bit di DT, data transmission. I due LED sono quindi connessi ai due pin dell'encoder. Vediamo quindi il diverso comportamento e la sequenza di accensione quando ruotiamo in senso orario. Abbiamo visto accendersi con il primo scatto prima il LED verde, che è quello connesso al clock, e subito dopo il LED rosso, che è connesso al DT. Facciamo ancora un altro step e vedremo spegnersi prima il LED verde e poi il LED rosso. Quando invece ruotiamo la manopola in senso anti-orario avremo la prima accensione sul LED rosso e subito dopo quella del LED verde. E facendo un secondo step si spegnerà il LED rosso per primo e quello verde dopo. Andando ad inserire nello sketch alcune righe di codice possiamo determinare in base a quale LED si accende prima se stiamo ruotando la manopola in senso orario oppure in senso anti-orario. Andiamo adesso a predisporre la breadboard per il secondo esempio che consiste nel variare l'intensità luminosa di un LED attraverso l'encoder rotativo. la luminosità del LED verrà regolata in PWM e l'encoder rotativo varierà il parametro PWM da 0 a 255 a passi di 5. Quindi per fare ciò dobbiamo togliere i due LED, il verde e il rosso, che abbiamo utilizzato nel primo esempio per indicare il cambiamento di stato logico del clock e del pin DT dell'encoder rotativo. posizioniamo quindi il LED verde con il catodo rivolto verso massa. mettiamo in serie la resistenza di caduta, di polarizzazione e andiamo ad aggiungere una connessione tra l'altro estremo della resistenza e il pin digitale D5 che attraverso il firmware è stato configurato come uscita. Quindi a questo punto possiamo alimentare vediamo subito che il LED è spento andando a variare a step D5 si ha un'illuminazione crescente abbastanza rapidamente fino a raggiungere il massimo dell'intensità luminosa. Arrivato a 255 poi il il parametro del PWM si ferma adesso siamo arrivati al massimo perché non vedo variare più l'intensità luminosa possiamo tornare indietro ecco qua che sta diminuendo non si vedono sfarfalli quindi la luminosità è stabile ed è regolata con precisione. Con una configurazione simile a questa cioè con degli encoder rotativi ottici o elettrici vengono regolati i parametri di funzionamento di molti dispositivi elettronici come può essere regolato il volume di un amplificatore o può essere selezionato la voce di un menu di un dispositivo o anche a microcontrollore. in molte stampanti 3d infatti abbiamo degli encoder rotativi dove alla pressione della manopola entriamo nella modalità programmazione ruotando la manopola selezioniamo le voci di sottomenu ripigiandole andiamo a modificare le singole voci per poi uscire dai menu e salvare i parametri modificati all'interno di una memoria. adesso siamo al minimo riproviamo ancora regolare fino al massimo per poi tornare ancora al minimo. questo tipo di configurazione permette anche di risparmiare in spazio sui pannelli avendo in questo modo la possibilità di regolare tanti parametri attraverso una singola manopola. allora andiamo a vedere rapidamente lo sketch di questo progetto abbiamo un esempio di codice per arduino 1 che ci permette di regolare attraverso un encoder rotativo il modello hw040 l'intensità luminosa di un led in modalità pvm in queste prime quattro righe abbiamo le direttive di preprocessore che ci permettono di assegnare a delle etichette delle costanti che saranno poi l'identificativo dei pin digitali del microcontroller connesse rispettivamente ai pin di clock e di t dell'encoder rotativo dello switch sempre dell'encoder e ad un led pvm che sarà quello un led che regoleremo in modalità pvm. abbiamo successivamente le variabili utilizzate per il debounce dove viene impostato come costante un valore di 50 millisecondi come debounce delay abbiamo poi alcune variabili definite con counter, current clock, previous clock e poi le modalità di funzionamento dei vari pin dove abbiamo il clk, il dt e lo switch che sono degli input invece il pin led pvm che abbiamo visto essere il pin d5 viene utilizzato come uscita qui inizializziamo la seriale a 9600 allora vediamo la parte di setup dove definiamo i vari pin come ingressi e come uscite quindi abbiamo il clock, il dt e lo switch che sono degli ingressi invece il pin led pvm che è connesso al d5 viene definito come uscita inoltre viene inizializzata la seriale a 9600 entriamo nel loop e cominciamo con il blocco chiamato debounce block all'inizio di questo blocco abbiamo la memorizzazione dello stato dello switch nella variabile reading e questa viene confrontata con lo switch state che inizialmente è fissato ad alto quindi se ho pigiato il pulsante questa condizione viene verificata e viene memorizzato nella variabile last the bounce time il tempo trascorso dall'inizio del programma a questo punto se il tempo tra l'inizio del programma in millisecondi e l'ultimo rimbalzo è maggiore di 50 millisecondi allora vuol dire che la maggior parte se non tutti i rimbalzi sono già passati perché si è visto empiricamente che alla chiusura di un interruttore in 50 millisecondi si esauriscono praticamente quasi tutti i rimbalzi di chiusura dei contatti quindi se siamo in questa condizione allora viene considerato lo switch state sul low e viene conteggiato solo una volta e non ogni volta che si presenta un rimbalzo se invece siamo al di sotto di questo debounce delay che per parametro iniziale è stato fissato a 50 millisecondi allora non viene conteggiato lo stato switch state low e si ripete il ciclo una volta ancora quindi soltanto quando viene superato il valore impostato se dovessero rimanere dei rimbalzi anche con 50 millisecondi si può provare ad aumentare questo valore portando di 10 in 10 a valori un po' più alti allora in questo secondo blocco invece abbiamo quella parte di codice che ci determina il senso di rotazione della manopola e ci permette di incrementare il contatore o decrementare per seconda che si stia girando in senso orario oppure anti orario come facciamo a determinare se stiamo girando in senso orario o anti orario verifichiamo qual è l'impulso che sta variando per primo in questo caso mettiamo in current clock il valore letto dal pin connesso al clock dell'encoder rotativo e se quel pin è diverso dal precedente vuol dire che è variato per primo l'impulso di clock a quel punto lo confronto con il data transmission il pin di T e se questo non è cambiato allora so che sto girando in senso orario invece nel caso opposto vuol dire che non è cambiato per primo l'impulso di clock ma è cambiato l'impulso di T e in quel caso lì so con certezza che sto ruotando in senso anti orario quindi in quel caso dovrò decrementare la variabile counter verificare di non essere andato al di sotto dello 0 sono in quel caso comunque con quest'if lo mantengo a 0 e a quel punto memorizzo encoder direction la stringa counter clock poi richiamo la funzione esterna serial monitor che mi permette di stampare il valore del contatore separato da un asterisco con la direzione di rotazione contenuta in questa variabile stringa a quel punto l'ultima parte di codice prima della fine del loop è questa che mi permette di far accendere il led in modalità pvm che è connesso al pin 5 e il valore di pvm viene impostato attraverso la variabile counter perché ho cambiato incrementandola in caso di rotazione in senso orario e decrementandola per le rotazioni in senso anti orario attraverso questo blocco a questo punto poi il loop è finito e ricomincia da capo bene a questo punto direi che abbiamo finito e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciatemi un bel like inoltre se volete ricevere tutti gli avvisi automatici ogni volta che carico un nuovo video cliccate anche sulla campanellina adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao e buon divertimento ciao